Nei periodi freddi, porta le tue piante grasse in casa. Prima di continuare se ti va, lascia un mi piace, per supportare il nostro lavoro su pianta succulenta. Le piante grasse sono diventate particolarmente popolari, e molti appassionati di piante ne possiedono almeno una. Durante i mesi invernali, è fondamentale sapere come proteggerle dal freddo. Con l'abbassarsi delle temperature, l'acqua conservata nelle foglie delle piante grasse può congelare, danneggiando la struttura della pianta. Anche se alcune varietà resistono meglio al freddo, la maggior parte non lo fa. Questo è un problema comune, specialmente per chi si avvicina per la prima volta alla coltivazione di queste piante. Le piante grasse, grazie alla loro evoluzione, immagazzinano acqua nelle loro foglie come meccanismo di sopravvivenza, essendo native di climi caldi. Ma ciò le rende vulnerabili al freddo, poiché l'acqua contenuta può congelarsi e danneggiare i tessuti. Quindi, è essenziale conoscere la propria pianta e la sua resistenza alle basse temperature. Anche se queste piante sono tenaci e sembrano poter sopportare qualsiasi condizione, molte non resistono al gelo. Durante l'inverno, è meglio trasferirle in un luogo riparato, possibilmente interno. Molte piante grasse, come echeveria, euforbia, crassula, aloe, senecio, calancoe, portulaca e aortia, dovrebbero essere riparate dal freddo, assicurati che abbiano una buona illuminazione e annaffiale con moderazione. Se hai l'abitudine di accostare piante grasse ad altre piante in vaso, durante l'inverno separale e spostale in un luogo protetto, e ricorda di maneggiarle con cura. Se ami le piante grasse ma vivi in un clima freddo, considera l'uso di sedum, che è resistente al freddo. Un'altra ottima scelta per esterni potrebbe essere il Sempervivum SPP. L'aloe vera è amata ovunque per le sue proprietà benefiche. È importante prendersene cura durante l'inverno, dato che viene usata in molti rimedi tradizionali, sia come bevanda che in prodotti cosmetici. Nel periodo invernale, è consigliabile lasciare asciugare il terreno tra un'annaffiatura e l'altra, poiché un'eccessiva umidità potrebbe favorire l'insorgenza di parassiti. Osserva attentamente le tue piante e controlla segni di malattie o infestazioni. Infine, dato che in inverno le giornate sono più corte, assicurati che le tue piante grasse siano posizionate in modo da ricevere la massima luce solare possibile. Se questo video ti è piaciuto segui il nostro canale Pianta Succulenta. Lascia un mi piace a questo video e se hai qualche domanda o qualche pensiero da condividere sentiti libera di commentare.